porta blindata con vetri ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi ed ogni abitazione privata avrà una porta d'ingresso ci sono delle situazioni dove nella porta d'ingresso è necessario avere del vetro perché magari una zona poco luminosa il mio consiglio è di farlo solamente come ultima possibilità perché inserire un vetro all'interno di una porta blindata può essere un'operazione molto costosa sia in termini economici ma anche in termini diciamo così di isolamento perché nel perimetro di una porta blindata magari costruita in ferro nel perimetro del vetro si crea un punto dove l'isolamento è difficile da ottenere infatti ad esempio nelle porte blindate a taglio termico fatte come si deve il vetro all'interno dell'anta non riesci a metterlo oppure esistono soluzioni però molto molto particolari dove la porta è completamente vetrata tutto il telaio a taglio termico però queste soluzioni magari sono adatte quando le porte sono di grande dimensione quindi un metro e venti un metro e trenta due metri e voglio fare un'anta intera lo faccio quasi più per il design che per la luce insomma invece funziona molto bene a livello termico se faccio una porta blindata a taglio termico avere un fianco luce o un sopraluce vetrato comunque mi aumenta la luce all'interno e non ho nessun problema di muffa e condensa se la porta è fatta come si deve poi esistono delle altre soluzioni di porte blindate ma questa volta parliamo di alluminio in questo caso l'alluminio è tutto a taglio termico quindi posso andare mettere degli inserti in vetro anche all'interno dell'anta ci sono soluzioni di vari produttori anche con modelli molto diversi e molto belli dove puoi scegliere appunto quanti vetri mettere la forma e colore diverso all'interno dall'esterno soluzioni sono veramente veramente varie ti sconsiglio ecco di mettere un vetro in una porta blindata normale dentro l'anta apribile questo lo consiglio se vuoi sapere degli altri consigli se vuoi avere delle informazioni sul cambio degli infissi se vuoi districarti tra la scelta dei preventivi che magari hai fatto fare e trovare quello più giusto puoi valerti del servizio di consulenza con sistema bisacchi che ho ideato e messo a disposizione di tutti quelli che non possono servire direttamente con la bisacchi su spnd più vai su www.blogbisacchi.it e richiede la tua consulenza personalizzata ciao e il prossimo video ciao 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 ciao